ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video a tema natale come vedete alle mie spalle è cambiato rispetto lo sfondo è cambiato rispetto all'ultimo video e vedete il tipico sfondo che c'è il tipico paesaggio che c'è dalle mie parti questo video per l'appunto è sulle cose che amo e odio del natale quindi partiamo subito con le cose che amo io adoro i ricordi che ho del natale soprattutto di quando ero piccola vi ho parlato l'altra volta nel video scorso dell'atmosfera appunto che si viene a creare dei ricordi che ho appunto legati al natale in cui si sta tutti insieme si è tutti più buoni si è tutti felici più o meno e appunto del fatto che si passi molto tempo insieme quando ero piccola amavo il fatto che il natale fosse il periodo in cui arrivava la neve adesso molto meno è molto difficile vedere la neve qui dalle mie parti e adoro anche i dolci tipici natalizi quindi pandoro ma soprattutto il panettone come vi ho svelato nello scorso video per l'appunto e mi piace fare o ricevere i regali quelli giusti quindi quelli azzeccati soprattutto farli perché appunto ho un briciolo di soddisfazione nel fare i regali e appunto vedere che la persona è soddisfatta effettivamente del regalo che gli viene fatto le cose invece che odio del natale sono il fatto che inizia sempre prima quest'anno io ero in germania e già il 21 settembre la mezza giornata che ho avuto libera sono andata un po in giro per per negozi per i negoziati che c'erano all'intorno e c'erano già gli addobbi di natale era appena cominciato l'autunno è una cosa che non mi piace che alla lunga stanca nella mia famiglia si fa l'albero lotto di dicembre quindi c'è praticamente solo un mese in cui c'è l'albero di natale in casa c'è chi invece lo fa praticamente appena toglie le zucche di halloween una cosa che non mi piace sempre relativa agli addobbi sono gli addobbi trash qui in zona c'è una famiglia che addobba i due terrazzini sembrano illuminati a giorno e per l'appunto non mi piacciono appunto gli addobbi trash soprattutto quelli che esagerano ma anche gli addobbi tipo qualche anno fa che andava di moda il babbo natale appeso al terrazzino alle finestre eccetera quelli li considero appunto adobbi trash che non andrebbero nemmeno permessi non mi piace soprattutto ricevere i regali brutti perché obiettivamente ce n'è uno almeno ogni natale e se non avete mai ricevuto un regalo trash a natale vuol dire che siete molto fortunati e non amo molto lo shopping compulsivo del natale soprattutto agli ultimi giorni quando appunto i negozi e i centri commerciali sono stipati di gente che cerca appunto il regalo da fare all'ultimo momento io per quanto possibile cerco di prendermi in anticipo non sempre ci riesco ma ci provo perlomeno bene io penso di avervi detto tutto riguardo appunto quello che amo e odio del natale spero che anche voi vogliate condividere quello che amate odiate del natale in un commento qui sotto e se siete soprattutto se non siete d'accordo con me qui sotto in descrizione vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure natalizie e non solo se non siete iscritti iscrivetevi e lasciate un like per supportarmi noi ci vediamo al prossimo video have a nice life